Addio a Duro Mimosa su tre a causa della siccità che ha tagliato almeno del 30% la produzione e fatto aumentare i prezzi spingendo i consumatori verso nuove fiori di tendenza come l'anemone, il ranuncolo, il tulipano ma anche la viola ciocca e il garofano. A dirlo alla vigilia della festa della donna è Coldiretti Toscana che sottolinea come la siccità abbia duramente colpito questa coltivazione. L'associazione lancia anche l'appello alla clientela affinché si assicuri che i fiori comprati siano di provenienza nazionale per supportare le aziende del comparto. Importante per sostenere le produzioni italiane che quando andate ad acquistare fiori da un fiorista di fiducia e mi raccomando un fiorista riconosciuto che non acquistate per strada che molto spesso sono fiori non certificati, chiedete sempre l'origine del prodotto. La scarsità di Mimose nel 2023 ha fatto aumentare le quotazioni con prezzi che vanno dai 5 a 10 euro per salire fino ai 20 e oltre per i mazzi più grandi o per le piante in vaso. Una situazione che sta attirando i ladri di fiori, tanto che sottolinea Coldiretti Toscana si moltiplicano le segnalazioni di furti e tentati furti nelle aree di coltivazione ed esplode in vista dell'8 marzo il mercato nero dei venditori abusivi in strade e piazze che vanno assolutamente evitati per non alimentare il business dell'illegalità.